Allora, il primo giugno al Palabanca di Piacenza, quindi qui vicino, è in programma il Bobo Day. Il Bobo Day per Bovolente, per Vigor, naturalmente. Vedo che il mondo del voli è molto sensibile, molto attento. Ma guarda, ha lasciato un vuoto Bovolente, è incredibile. Io ogni volta che parlo con qualcuno della Pallavolo, veramente. Ecco, noi ne parliamo naturalmente con chi? Con la natura della Nazionale di Pallavolo. Tifoso juventino, no? Mauro Berruto. No, avete sbagliato il numero. E' granatissimo, sai che è granatissimo? Ma più che granata. Lo so, ci siamo visti alle Olimpiadi. Esatto, buongiorno. Ciao Mauro. Ciao Mauro, allora, raccontaci un po' di cosettine su questo Bobo Day, ma anche sulla situazione del volo, come dicono, in Italia. Sai, la classica frase, come va il volo in Italia? Ma io ti parlo della Nazionale, siamo partiti da un po', in questo inverno di lavoro. Il 22 di aprile abbiamo incominciato, siamo all'ultima fase dei collegiali di preparazione, la settimana prossima si incomincia a giocare, si incomincia a giocare con due amichevoli, con la Francia, proprio una a Cuneo il 31 di maggio e poi il primo di giugno, l'ultima amichevole, prima della World League a Piacenza, in questa grande giornata, bella, chiaramente nel ricordo di vigore, nel sostegno oggettivo alla sua famiglia, soprattutto. Ecco, un sostegno oggettivo vuol dire, un sostegno concreto? Concreto perché, insomma, il Nazionale, come già è successo l'anno scorso, l'anno scorso purtroppo il fatto era successo veramente da pochi mesi, ha sposato in pieno questa causa di essere presente, tutta al completo, giocare un amichevole e l'incasso sarà devoluto alla famiglia di Vigor, la moglie Federica e ai suoi cinque figli. Cinque figli, peraltro uno nato dopo la morte di Vigor, naturalmente. Pala Banca di Piacenza, per andare, non è gratuito naturalmente l'ingresso? No, proprio per questa ragione. Esattamente, lo ricordiamo. Non ci saranno neanche gratuità, proprio per questo motivo. Perfetto. Ed è una giornata intera, oltre alla partita che è alle 18 da nostra Nazionale, ci sarà prima una partita fra gli amici di Vigor, quindi altri giocatori di Serie A, e una grande ma molto ben rappresentata selezione della Generazione dei Fenomeni, quindi ci saranno tutti i giocatori molto noti. Prima ci sarà un evento di Sitting Volley, prima ancora delle attività per i bimbi della scuola elementare, quindi insomma sarà una giornata intera dedicata al Vigor. Ci giocheranno Cantagalli, Meoni, Bertoli, Zlatanov? Tutti. Esatto. Ma non giocherà anche Lorenzo, dai Bernardi, no? Eh, non ho questa notizia, ma penso di sì. Sai che con Lorenzo io ho giocato a calcio una volta. Sì. Sì, sì. Ho giocato a calcio ogni tanto con quelli da pallavolo, sono impressionanti per le estremità. Ma lui non è male, lui è molto alto, però non era male, ti dirò. No, no, ma la coordinazione è una delle cose. Mia figlia gioca a pallavolo, la coordinazione è importantissima. Ci sono anche dei calciatori pallavolisti, eh? Eh, sì, sì. Uno è stato il capitano della mia squadra. Taffarel. Ai tempi del Toro, Luca Bucci, che è un ottimo pallavolista. Aspetta, non ti dico, c'erano Bucci, Taffarel, c'era Cornacchini che faceva l'alzatore, che ha giocato a Perugia, ha giocato a Fano. Era un metro e cinquanta, Cornacchini. Però a Fano aveva giocato da ragazzo. A pallavolo. Sì, aveva giocato a pallavolo. E io ti volevo chiedere invece, Marco, ma tu una situazione come quella di Allegri l'avresti accettata da allenatore? Cioè stare lì in stand-by, non lo so, devo parlare col Presidente, ma vediamo a cena che succede. Cioè il Presidente federale che ogni tanto dice, però Berrutto gioca male. Sì, vabbè. Sì, sto Berrutto, però. Diciamo che credo che sia più accettabile questa situazione in cui la società deve decidere un progetto futuro che non forse tante interferenze durante il progetto corso. Mi riferisco più a quello che è successo durante il campionato, che non tanto a una fase in cui adesso ovviamente dovranno sposarsi l'obiettivo del club e l'obiettivo individuale del personale allenatore. Però quando poi si parte, di solito si dovrebbe stare un po' di più allineati, diciamo. Ma dici che si allegra e arriva a cena e Berlusconi non si fa vedere, è un segnale. E trova solo Gagliani e un cartonato, tu dici. Senti, per finire, Mauro, ricordiamo che sono 12 euro il biglietto di ingresso per entrare naturalmente a Piacenza per il Bovo Day il primo di giugno. Parliamo del Toro, dai, due battute sul Toro, come la vedi e soprattutto cosa ti immagini? Ma la stagione del Toro, almeno dal mio punto di vista, sarà un po' strana, perché pensavo che avremmo fatto molta fatica all'inizio, poi c'è stata tutta una fase in cui avremmo fatta molta di meno di quello che pensavo. E poi è tornata la fase in cui hai pensato. Esatto, quindi direi che però ho tolto un finale che forse non è stato esaltante. Credo che il campionato sia ottimo, sia un campionato che possa anche mettere delle basi per il futuro. Insomma, ci sono stati larghi tratti in cui la squadra ha giocato bene, ha giocato intanto in un modo identificabile, che era un po' di anni che non ci succedeva. Ha riportato due giocatori in nazionale, e voglio dire che questo ha un'importanza naturalmente, che anche questa era un po' sconosciuta ormai a noi tifosi del Toro. Quindi mi auguro che questo sia un punto di partenza, così come mi auguro che arrivi anche presto il nostro scudetto, quello che possiamo vincere, che si chiama Filadelfia. Mauro, noi ti ringraziamo naturalmente, e diamo appuntamento a tutti il primo di giugno. Primo di giugno a Piacenza, vi aspettiamo per presentare questa nazionale, che per la prima volta, tra l'altro, torna in Italia dopo la medaglia olimpica di Londra. Quindi sarà anche un bel modo per salutare i protagonisti di quella bella avventura. Grazie, senatore della nazionale di volley maschile, Mauro Berruto. Ciao, Mauro. Ciao, Mauro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi.